Il bollettino Excelsior di un on-camera fotografa la professione del saldatore come una tra le più introvabili per il nostro sistema di aziende e manifattoriere. È per questo che noi di Confapi Venezia, tramite la nostra società di servizi Appindustria, abbiamo organizzato un corso finanziato per l'avviamento alla professione di saldo carpentiere. Questo corso copre un mismatch importante tra domanda e offerta di lavoro e soprattutto è uno strumento essenziale per l'integrazione di richiedenti asilo che sono nei centri di accoglienza. Un'integrazione fatta per il tramite del lavoro, della formazione al lavoro e poi del successivo inserimento nelle nostre aziende associate.